Per questo è quanto vuoi, Davide? No, Lia, quelle calze non te le vendo. Ma come? Miriam! Lia, il bambino è quello di Esther. E Armando è tuo fratello. Mi dispiace tanto, Miriam. Non so che sia di me, tia, se qualcosa le passi a Pedro. Non possiamo casare ora. Dici che non vuoi casare perché la tua famiglia è arruinata. Entendo perché stai facendo questo e sto contigo. Te voglio molto e ho tanto miedo di perdere. Il mio dolce preferito, lo prendo sul salto. Bene. Tu e Eva? Stati insieme? Quindi è per lei che non vuoi tornare a lavorare con me? Mettere radici in un posto. Vai, vai, vai. Giulia! Giulia! È inutile che scappi, io lo so che c'entri tu. Con cosa, Tatiana? Mi hanno appena eliminato. Scusa, che c'entro io se tu hai la cellulite? Scusa, che c'entri tu. Grazie per la visione!